Continua anche in queste ore ad imperversare la polemica sul polverone suscitato dalle iene sul cosiddetto caso della terrazza abusiva della casa di Montalbano a Punta Secca. Da una parte i proprietari dell'immobile, carte alla mano, ne certificano l'assoluzione del 1995 da parte del pretore di Comiso, chiamato a pronunciarsi sul procedimento di presunto abusivismo in seguito agli accertamenti dell'Agenzia delle Entrate, a seguito a sua volta di una segnalazione della Guardia Costiera, che nel 1991 attuò denuncia a tappeto su tutto il litorale contro l'abusivismo selvaggio sul demanio marittimo. Denunce che però portarono poi alla sentenza del Tribunale del 1995. Dall'altra non mollano i favorevoli all'abbattimento della veranda considerata abusiva. Oggi infatti sulla vicenda interviene anche il Kodakons che ne chiede la demolizione con tanto di ruspe. Dopo le carte portate alla luce dalla trasmissione Le Iene, dalle quali emergerebbe un'ordinanza di demolizione risalente però al 1991, ad oggi non eseguita, relativa proprio alla terrazza più famosa della televisione italiana, il Kodakons ha deciso di passare alle vie di fatto e chiedere l'intervento delle ruspe per porre fine a qualsiasi abuso edilizio. Un atto forte anche contro il governatore Rosario Crocetta, che ieri si è espresso sulla vicenda assicurando che il luogo ormai simbolo della sicilianità in tutto il mondo sarà tutelato come vincolo monumentale. Insomma dalla regione un segnale forte, come a dire giù le mani, anzi le ruspe da quel luogo, così apprezzato e famoso a livello internazionale, grazie proprio alle vicende del commissario Montalbano. E se fosse un caso tra le mani del famoso commissario e dei suoi, di certo non si farebbe ingannare da tanto polverone mediatico, cercando invece le motivazioni di chi, ancora una volta, tenta di screditare il territorio ibleo e in particolare Santa Croce Camerina, che ha trovato un forte riscontro turistico dalla nota serie tv e dai libri di Camilleri. A qualcuno pare non vada proprio giù. Ci sarebbe di che indagare in altre direzioni a Monteluse per il nostro Montalbano.